vediamo ora due strumenti molto utili che ci risolvono diverse situazioni che potrebbero anche diventare difficili abbiamo un impaginato magari anche di più pagine abbiamo questo testo che non è ancora definitivo perché il cliente ci ha già detto che deve ancora fare delle modifiche forse toglie una riga forse ne aggiunge 10 sappiamo però da sue indicazioni che questa immagine deve essere affiancata a questo paragrafo quando inizia questo paragrafo deve esserci questa immagine perché si parla appunto di di essa in questo paragrafo quindi ogni volta che noi aggiungessimo togliessimo delle cose di testo dovremmo ricordarci di spostare questa immagine in alto e in basso per tenerla agganciata al posto in cui ci serve sarebbe difficile per di più che magari quest'altra situazione si verifica anche nelle pagine successive numerose volte ci viene in aiuto questo strumento che si chiama flutto a contesto io clicco ho la foto selezionata clicco su flutto a contesto e vediamo che si crea un legame che tra l'altro va in un posto qualunque va nel posto più facile che lui reputa più vicino a sé noi possiamo spostarlo e andare a metterlo come vedete se esco fuori da una cornice di testo o una x che mi sta indicare che questo quest'ancora deve essere posizionata su un testo e lui il testo che va poi ad agganciarsi e seguire io voglio che il testo sia questo quando comincia il testo alla stessa altezza ci sia allineata questa foto quindi lascio il tasto l'ancora è venuta qui e adesso vediamo che succede esattamente questo se questo testo si allunga la foto di conseguenza slitta per continuare a rimanere ancorata a questa riga se si allunga continua se il testo si accorcia torna su e via dicendo mettiamo il caso che la stessa cosa che abbiamo dovuto fare con questa foto la dobbiamo fare con questo testo questo testo è in pratica la didascalia di quella foto e vorremmo che anche lui ne ho messo troppo ce ne basta molto meno vorremmo che anche lui seguisse la foto man mano che che la foto si sposta a questo punto possiamo fare lo stesso discorso anche con lui clicchiamo su quest'icona vediamo che va nel posto più vicino che non è quello che noi vogliamo perché noi vogliamo che il posto sia quello la vogliamo che in funzione di quel posto la lui si sposti vediamo che succede a questo punto allunghiamo il nostro testo e vediamo che sì di conseguenza si sposterà e ancora si sposterà ed esattamente quello che vogliamo avete visto avete notato questa cosa non è che questo si allinea automaticamente a questa altezza il telefono è rimasto qui perché era già posizionato qui e si allinea in base a questo punto questo è qui è rimasto qui e si allinerà in base a quel punto continuerà a mantenere questa distanza sempre anche se quel punto si sposta lui si sposterà di conseguenza se io decido di spostarlo qui sopra è la stessa identica cosa man mano che questo testo aumenterà lui scenderà per rimanere vicino al telefono per continuare a tenere la stessa distanza da questo punto comodo molto comodo ora eliminiamo questa cosa eliminiamo questo legame per eliminarlo basta cliccare qua e abbiamo disattivato il flutto a contesto e a questo punto come vedete il telefono resta fermo anche quando modifico il testo proviamo a immaginare un'altra situazione abbiamo questa colonna di testo questa immagine deve deve essere posizionata all'inizio di questo paragrafo deve rimanere posizionata all'inizio di questo paragrafo possiamo anche tenere la grande comunità la colonna non è non è un problema va benissimo quindi facciamo la larga uguale mi piacciono molto di più le immagini larghe come le colonne allora come vedete abbiamo questo primo problema l'immagine non fa slittare via il testo il testo resta sempre lì sotto mentre l'immagine dovrebbe farlo scappare ma noi sappiamo già come si fa se andiamo qui e diciamo al testo di scappare il testo scappa per di più se diciamo al bordo inferiore di stare un po' più lontano non basta e a questo punto noi abbiamo un'immagine che scansa il testo che è la prima cosa che va fatta per essere sicuri che non ci perdiamo del testo sotto all'immagine l'altra cosa che potrebbe venirci in mente è perché non uso di nuovo lo strumento di prima perché non vado ad attivare questo lo attivo tipo qui e la mia immagine sta ferma qui no purtroppo perché questo lavoro qui che noi abbiamo usato prima per allineare in verticale funziona anche in orizzontale se io sposto questo punto verso destra l'immagine si sposta verso destra e quindi perché si sta spostando il punto di controllo dell'immagine quindi non è questa la funzione che possiamo usare per fare in modo che questa immagine resti ancorata nel testo nel posto che noi vogliamo disattiviamo questa funzione e attiviamo quest'altra quest'altra funzione ha fatto una cosa ha trasformato l'immagine in un carattere ora l'immagine è come se fosse un font è posizionata esattamente qui dove la vediamo quindi questa è una lettera ritorno indietro con i tasti freccia e e come vedete ho scansato l'immagine l'immagine purtroppo non è dove la vogliamo perché ci ha diviso metà il testo non è finita nel posto giusto è difficile inserire nel posto giusto perché o riusciamo a scansare proviamo se riusciamo a scansare bene il testo noi la vorremmo qua ma lei non sia ancora dove vogliamo e questo mi fa arrabbiare allora la cosa più facile è togliere questo legame copiare l'immagine in memoria per copiarla in memoria facciamo proprio il comando copia command c o control c la togliamo la eliminiamo schiaccio backspace o canc per buttarla via vado dove la vorrei che è qui ci vado proprio col cursore e a questo punto incollo l'immagine incollo semplicemente incollo a questo punto l'immagine è esattamente gestita come se fosse un carattere addirittura sente il rientro noi abbiamo questo rientro di qualche millimetro a questo punto io devo selezionare l'immagine vedete che la sto selezionando come se fosse un font vado nel paragrafo e tolgo all'immagine il rientro a sì ecco l'ho tolto anche però questo paragrafo perché era selezionato anche lui lui invece deve averlo rientro l'immagine invece che va selezionata come un font non deve avere rientro a questo punto se noi allunghiamo il testo l'immagine scorrerà e si adatterà sempre alla posizione di conseguenza se noi diminuiamo il testo pure quindi quando vogliamo posizionare un'immagine in un testo corrente dobbiamo utilizzare questo strumento che però io preferisco andare a controllare direttamente a mano nel modo in cui ho fatto vedere lo strumento attivo perché quando io copio incollo dentro un testo automaticamente si attiva la funzione integrato nel testo però preferisco copiare posizionare il cursore nel testo e poi andare ad incollare in quel modo so che sto posizionando l'immagine esattamente dove voglio per incollare chiaramente e command v di verona o su pc contro il v di verona oppure di qui fate incolla che è la stessa cosa grazie